Continua la striscia di risultati utili consecutivi della San Cataldese che torna da Ragusa con un prezioso pari grazie allo 0-0 dello stadio Aldocampo, una partita in cui i Verdamaranto hanno blindato il risultato riuscendo a portare a casa un punto che dà continuità alla vittoria contro il Trapani e mantiene a distanza di sicurezza la zona calda della classifica. Intanto il Catania vede la promozione grazie alla vittoria di misura contro la cittanovese. La caduta del Locri in casa con il Paternò avvicina la società rosso-azzurra alla Serie C. Intanto la San Cataldese con 38 punti e la settima posizione flerta con la zona nobile della classifica a otto lunghezze dalla fascia play-out. Questi i risultati della ventisettesima giornata del girone I di Serie D. Trapani-Realla Versa 1-0, Locri-Paternò 0-1, San Luca-Città di Acireale 1-0, Mariglianese-Città di Sant'Agata 3-3, Vibonese-Canicattì rinviata per Nebbia, Catania-Cittanovese 1-0, Licata-La Mezzia Terme 1-1, Santa Maria-Cilento-Castrovillari 2-2, Ragusa-Calcio-San Cataldese 0-0. Classifica Catania 72 punti, Locri 52, Città di Sant'Agata 49, Trapani 42, La Mezzia Terme 42, Licata 41, San Cataldese 38, Vibonese 35, Santa Maria-Cilento 35, Canicattì 34, San Luca 32, Castrovillari 30, Ragusa 30, Città di Acireale 28, Realla Versa, Paternò 27, Cittanovese 24, chiude la Mariglianese a 18 punti. Vibonese e Canicattì una partita in meno.